Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 26 luglio venerdì, l'ultimo giorno della settimana di luglio, poi la settimana prossima forse sarete già qualcuno di voi in vacanza come lo sono io, anche se la mia vacanza un po' tra Diario di Vaggio, Sito Nicola Porro e ovviamente Le Zuppe di Porro è sempre informata. Mettiamola così, i giornali oggi che cosa hanno? Ovviamente le solite questioni politiche, perché ieri si sono visti Salvini e Di Maio, ieri sono venute due cose politicamente nella nostra storia, diciamo di piccola cronaca e cabotaggio politico. Salvini e Di Maio si vedono a Palazzo Chigi, tant'è che alcuni giornali titolano Tregua d'estate e il Presidente della Repubblica, Mattarella, si vede la cerimonia del ventaglio. Riguardo all'incontro tra Salvini e Di Maio, la Tregua d'estate è quella che direbbe è fatta contro Conte o comunque per ribadire il fatto che i due azionisti di maggioranza sono loro, secondo le interpretazioni retroscene dei giornali, tant'è che Salvini poco prima o poco dopo, non so bene, di questa riunione ha detto che, anzi direi poco prima della riunione ha detto che delle cose che Conte ha detto in Parlamento riguardo a Moscopoli non gliene frega niente. Mattarella invece partecipa alla cerimonia del ventaglio dove dice tante cose, la cosa fondamentale è quella che riporta Maurizio Breda che è il suo ventriloquo, quello che parla per voce del Quirinale ma si firma Breda e cioè che se dovesse crearsi una crisi si farebbe un governo elettorale ma poi si andrebbe a elezioni. Quindi questo vuol dire due cose secondo il linguaggio felpato del Colle che questa legislatura potrebbe finire molto più anticipatamente se questi continuano a titigare di quanto si immagini e che comunque non è importante quando vadano in crisi perché si farebbe un piccolo governo elettorale giusto per gestire le elezioni e poi si andrebbe a votare. Si fideranno di questo governo elettorale? Boh, vediamo, ma comunque quello che dice e spera che avvenga, che non avvenga il Presidente della Repubblica. Verdelli oggi, e non scrive sempre il direttore di Repubblica, anzi lo fa con, a differenza per esempio di Sallusti o di Belpietri che scrivono tutti i giorni, Verdelli scrive raramente e oggi dice che in un paese normale avrebbero già fatto la crisi di governo. Questo dice Verdelli che si prende il fondo del suo giornale di Repubblica. In realtà una crisi di governo c'è ed è quella spagnola ed è ridicolo perché l'avevamo pompato questo mitico socialista Sanchez che avrebbe dovuto fare l'accordo con i sinistri di Podemos e che volevano avere un baricentro secondo i pezzi, devo dire, un po' confusi perché come sempre avviene i pezzi di politica estera l'hanno tutto per scontato, mentre non è nulla scontato, siamo tutti dei grandi ignoranti, lo sono io che leggo tutti i giorni i giornali, cazzo figuratevi voi i lettori che si comprano la Repubblica, volete spiegare ai lettori un po' di background? Siete tutti come degli esperti, gli allenatori, i giornalisti sono sempre i più fichi del bigoncio, spiegate cosa è successo in Spagna prima di dare le vostre retroscena, i vostri commenti, invece ovviamente questo non avviene perché il corrispondente agli esteri deve essere sempre il più fico. Beh, io cerco di capire quello che, di dirvi quello che ho capito, cioè che questo Podemos, estrema sinistra, voleva condizionare i socialisti di Sanchez che pure erano arrivati prima alle elezioni, non si è avuto la maggioranza perché Podemos, visto che Sanchez non ha ceduto certe posizioni, Sanchez non ha ceduto a sinistra e non ha ceduto loro alcuni misisteri, quindi non hanno ottenuto la maggioranza del Parlamento e si potrebbe arrivare alla terza elezione, terze elezioni in quattro anni, cioè votano ogni volta, una volta all'anno e non riescono mai a avere un governo in Spagna, quindi ci sono governi europei e parlamenti europei che stanno messi peggio di noi. Certo, poi ti leggi le interviste alla Lezzi, ministro del Sud e ti viene da ridere, dov'è che l'ho letta, mi sembra, sul messaggero che dice il sì alla TAV è un dolore, io mi ricordo che lei si sarebbe dimessa se avessero fatto la TAP, se avessero fatto l'ILVA e adesso la TAV è contro lei a Iriola, cioè alla fine ragazzi siete come tutti gli altri, nel senso che la retorica che voi avete vomitato nei confronti degli altri politici vi si addice perfettamente, la TAV per voi era un passo da non superare, l'avete superato, io sono contento, la TAP era una cosa ignobile, se veramente credete che TAV sia un ladrocinio vi dovete dimettere, se veramente pensate che la TAP uccida vi dovete dimettere, non si va e non si fanno compromessi con i principi, io sono convinto che la TAP serve e che la TAV serve, eppure voi che siete convinti che siano delle mostruosità continuate a governare e stare e a tenervi la vostra poltroncina sotto il culo, vero Lezzi? Perché non ti dimetti? Perché non fa un gesto clamoroso? Nella giornata in cui questi governano ma non governano, Fico che cosa fa? Insieme a 17 grillini non toglie la fiducia a questo governo quando passa il decreto sicurezza che fa un mazzo così agli immigrati, secondo la retorica del Movimento 5 Stelle, non si presenta in Parlamento, il Presidente della Camera non si presenta alla Camera per non votare no o sì o astenersi al decreto sicurezza che è un decreto simbolo di questo governo, beh ditemi un po' voi come la leggete, una cosa di questo tipo la trovo piuttosto ridicola, cioè è una roba da matti, Fico non si presenta, il Presidente del Parlamento, il Presidente della Camera non si presenta al voto sul decreto sicurezza, il Ministro del Sud non si dimette dopo che diceva che non si deve fare tanti, facciamo l'alta velocità al Sud e ha ragione, ma non è che l'alta velocità al Sud toglie il fatto che lei si sarebbe dovuta dimettere e avrebbe presa a calci nel sedere tutte le persone che erano a favore della TAP, insomma piccole ipocrisie democristiane crescono, solo che queste ipocrisie ce l'hanno questi fenomeni del Movimento 5 Stelle, sulla vicenda Siri oggi i giornali sembrano essere un po' disattenti perché sulla vicenda Siri succede una cosa imbarazzante e cioè che il grande accusatore di Siri, cioè questo imprenditore delle Oli con i Castri, tutto da vedere se poi è il colpevole già designato nonostante non ci sia stato ancora un processo, al dibattimento, cioè durante il processo, non durante le intestimonianze e durante le intercettazioni, dice io penso che Siri non sapesse che noi avevamo pensato nella nostra testa di dargli 30 mila Euro, cioè è come se domani qualcuno mi mettesse in galera a me perché c'è qualcun altro in una macchina, padre e figlio, che dicono è a Porro se ci invita in televisione gli diamo 30 mila Euro, io poi non li invito in televisione oppure li invito e loro non vengono in televisione, io non ricevo i 30 mila Euro e io non sapevo che loro mi avessero promesso e avessero nella loro testa bacata pensato di darmi dei soldi, io la trovo una cosa incredibile e ancora stiamo parlando del caso Siri, oggi c'è un pezzullo soltanto che dice che l'imprenditore ha detto beh ma probabilmente il nostro pensiero di gratitudine di cui l'interessato era all'oscuro, un loro pensiero di gratitudine di cui l'interessato era all'oscuro e di che stiamo parlando? L'abbiamo fatto dimettere Siri, l'abbiamo fatto diventere e gli abbiamo fatto un culo così a questo Siri perché ci sono due cazzoni che dicono che gli avrebbero dato 30 mila Euro e che considerano come un pensiero di gratitudine, siamo un paese di matti per i quali io potrei andare in galera domani mattina, io ho paura in un paese di questo tipo e dovreste averla anche voi perché questo è il paese in cui ti tolgono un bambino, ti mettono in galera senza nessuna garanzia delle minime tutele democratiche e liberali, a proposito di Bibiano e della galera oggi mi è venuto veramente da ridere perché sapete cosa è in grado di scrivere Repubblica in due pagine di inchiestona della minchia di Repubblica che Bibiano è stata inventata dalla destra sovranista per evitare di parlare di moscopoli, questi devono cambiare pusher, tra l'altro nel pezzo lungo e inutile citano il fatto che Mediaset con fuori dal coro, cioè con Mario Giordano sarebbe il primo ad aver lanciato il soffio, il là alla cosa sovranista, ragazzi studiate, studiate, siete in mala fede, altro che studiate, in realtà tre settimane prima l'avevamo fatto noi di Quarta Repubblica e non c'era nessuna moscopoli perché noi avevamo fatto veleno, sul vostro cazzo di giornale avete fatto veleno con Pablo Trincia, dove è finito veleno? era nelle stesse zone, nella Valdenza, in quell'Emilia rossa di merda in cui tolgo, non l'Emilia rossa che io adoro, l'Emilia ovviamente, la Romagna ancora di più, ma in quella specie di Soviet in cui nessuno poteva dire nulla, tra l'altro il PD che fa tanto il fenomeno, come ricorda oggi Libero, Borgonovo lo scrive, ha nominato a tutela dell'infanzia, diritti dell'infanzia, una che difendeva il metodo Bibiano e di questi fenomeni di Hans Legretele e poi dicono che non c'è una specie, io non penso che sia il PD, c'è un pregiudizio ideologico per i quali la famiglia facendo schifo se gli togliamo un bambino che volete che sia, c'è obiettivamente questa roba qui che nasce da veleno e finisce, purtroppo non finisce soltanto a Bibiano. Altre notizie di giornata, robe serie, Draghi decide di continuare, come dice Masciandaro oggi sul Sello 24 ore, sulla politica di tassi bassi e di manovre anche fiscali e monetarie molto forte per aiutare purtroppo un'economia che non va, perché l'outlook dell'economia secondo Draghi non è positivo, la Germania ha un indice di fiducia delle imprese molto basso, ieri le borse sono cadute dopo le parole di Draghi, non perché abbia detto delle cose che ai mercati non piacevano, ma per un solo motivo, per il quale non ha dato la tempistica di questi strumenti straordinari che avrebbe utilizzato. L'ultima cosa che vi segnalo è il titolo del Corriere della Sera, perché ve lo devo leggere, loro che fanno i maestrini, Trump ripristina pena di morte in tutti gli stati, sentite bene, Trump ripristina la pena di morte in tutti gli stati, è una fake, è falso, come dicono loro, è una fake news, è una stronzata, non è vero come scrive la stampa, come scrive Repubblica, come scrivono tutti i giornali, tranne il Corriere della Sera di cui i borghesi milanesi si fidano tanto, non è vero che Trump ripristina la pena di morte, non è assolutamente vero, finisce la moratoria per la quale i reati federali possono essere colpiti dalla pena di morte, perché nel 2014 Obama aveva imposto una moratoria per vedere se funzionava e se non era una tortura l'iniezione, va bene? Quindi Obama aveva fatto un passo certamente contro la pena di morte con questo sotterfugio, ma non l'aveva abolita, non l'aveva abolita, Trump dopo 5 anni cosa fa? La moratoria finisce evidentemente, non si possono stare 5 anni a vedere se funziona o no, ma in più non è vero che la pena di morte ritorna in tutti gli stati come se Trump avesse obbligato i 30 stati sui 50, ce ne sono solo 29 che hanno la pena di morte, gli altri 20 non ce l'hanno, non è che ha obbligato i 20 che non ce l'hanno alla pena di morte, ha semplicemente detto che quella roba della moratoria per i reati federali, quindi non per i reati statali, è finita, è una cosa completamente diversa e poi l'ironia della sorte è che il primo condannato a morte, sapete chi è? Purtroppo io odio la pena di morte, sia chiaro, la pena di morte secondo me è incivile, non è che sto difendendo la pena di morte, io attacco la pena di morte, attacco però l'idea che il giornale più serio d'Italia, Trump ripristina la pena di morte in tutti gli stati, è falso, il primo purtroppo a morire sarà, sapete un po' voi, un suo problematista bianco, una cosa da matti. Io vi saluto, vi do appuntamento alla zuppa di domani e ho un pezzo incredibile che vedrete sul mio sito del nostro collaboratore Sferadi sul fatto che in Francia non era possibile secondo il prefetto di Strasburgo fare il tifo al Maccabì con una bandiera israeliana, se questa non è sottomissione ditemi voi che cos'è. Ciao!